Bentornati. Quello che stiamo per vedere è probabilmente il mio effetto preferito all'interno della libreria artistico ed è l'effetto ritaglio. Ora andiamo a portare tutto a zero così ci rendiamo conto esattamente di cosa fa. Come possiamo vedere già da subito da un effetto che secondo me è molto indicato per ritocchi che vadano in direzione della graphic novel. Andiamo a vedere innanzitutto che possiamo aumentare il numero di livelli e questo sostanzialmente aumenta il numero dei colori che vengono usati. Possiamo arrivare a otto e quindi abbiamo otto livelli di colore che quindi riproducono la nostra foto ma lasciando sempre una sorta di separazione tra le luci e le ombre con queste sfumature che secondo me aggiungono qualcosa di veramente carino all'immagine. Picciolisco un po' così la vediamo intera. La semplicità di contorno se aumentata porta a delle forme più semplici e anche alla perdita del dettaglio quindi bisogna sempre trovare il giusto compromesso. Mentre la precisione di contorno aumenta la quantità di dettaglio nei nostri contorni. Io immagino che sia questione di gusti però io sostanzialmente in ogni posizione in cui metto questo filtro ha qualcosa che mi piace. Ovviamente le combinazioni sono infinite bisogna trovare quella che più si addice per esempio semplicità di contorno al massimo probabilmente è un po' troppo e anche precisione di contorno al massimo è un po' troppo. Il fattore chiave è il numero dei livelli perché è qui che possiamo decidere veramente il tipo di sensazione che vogliamo che questa grafica ci restituisca. Una cosa del genere... adesso vado piano piano perché voglio arrivare al giusto compromesso. Mettiamo un po' la precisione di contorno. Una cosa del genere... diciamo quattro livelli magari... una cosa del genere è questione di gusti ma secondo me è bellissima. Le combinazioni sono pressoché infinite ci si può giocare all'infinito e sono quasi tutte belle secondo me. Ovviamente come dico tutte le volte la cosa migliore da fare sarebbe convertire l'immagine iniziale in oggetto avanzato e dopo andare ad applicare il filtro. Qui riapplico il filtro con le stesse caratteristiche. In questo modo io potrei andare ad abilitare e disattivare il filtro in qualunque momento o anche applicare il filtro solo su parte dell'immagine. anche questo è un effetto abbastanza interessante.